Taranto, flop turismo nel 2022. Infatti non compare tra le prime 15 città pugliesi né per arrivi in coming né per presenze per nottamenti. Nessun incremento, nessun miglioramento. L'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, non sa cosa dire e incredibilmente cerca di negare questa triste realtà. Volevo parlare un po' di taranto. Fabrizio, due parole. I dati sono impietosi. I dati non sono impietosi, sono impietosi. 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP e poi i dati su Taranto. Leggi il sentiment. Ne capisco bene, voi raccontate favole. I turisti a Taranto stanno scomparendo.